credo che una delle doti più importanti per un poeta sia imprescindibilmente l'empatia l'empatia il vedere il sentire sulla pelle le emozioni dell'altro che sia un animale una persona un bambino un anziano un fiore infatti spesso le poesie hanno ad oggetto anche delle cose degli animali e poi mettere il cuore dappertutto e quasi entrare nello stato d'animo dell'altro e riportarlo in una poesia è quello che fa il principe antonio de curtis in arte totò in queste righe dal titolo di dedicate ad un cane tengo un cane che è fenomenale si chiama di si perdere la vese non sia mai per me sarebbe un lutto nazionale l'ha già cresciuto con maru aione con zucchero biscotti e papparelli l'ha già tirato su quei mullichelle e l'ha girato buona educazione non si ma il gru se quasi giovinotte capisce tutto la manca parola e canerazze ten buona scuola e lupo alzaziano e poliziotto che il camovo conto è molto bello in casa ha stabilita la gerarchia va bene a mamma che a signora mia e a figlio mi so tratto da fratello e me se pensa che al songo pat se io guarda rin dall'occhio ma capisce a pizzerrecchio corre mu bidisce e per fare presto torna senza fiato ogni anno rin dall'estate vai in amore sapo condrisce e metto musso sott stanno se innamorate in abbassott che non ne vuoi sapere non è in calore povero dic soffre che in maniera porta purissimo e quindi dic si è innamorato è diventato ragazzo ed è necessario che abbia una moglie perché altrimenti soffre grazie Totò